Il segretario provinciale della Filcams CGL Anselmo Gandolfo interviene sulla vicenda dei dipendenti della SOES e in particolare sulla decisione della sindaca toscano di convocare i lavoratori escludendo le organizzazioni sindacali. Da qui l'accusa di atteggiamento antisindacale. Non che la sindaca non avesse libertà di convocare qualcuno presso l'amministrazione locale e l'amministrazione di Erice ma quando invece parla per conto di altri quindi in questo caso casomai o per la SOES per l'azienda o comunque con i lavoratori che sono rappresentati dalle organizzazioni sindacali dalle diverse sigle estromettendo da quel ragionamento da quel contatto diretto le organizzazioni sindacali stesse per quanto mi riguarda non riesco a interpretarlo in maniera diversa. Oggi però in un momento di grave criticità non solo la sindaca toscano non convoca i sindacati ma sostiene il sindacato sembra che temporeggi nel trovare soluzioni concrete. Si è andati avanti di proroga in proroga rispetto alle proroghe concesse a SOES la sindaca puntualmente di anno in anno ha assunto degli impegni fino ad arrivare poi alla scadenza naturale del contratto e nonostante la scadenza del contratto fosse imminente non è stato fatto né un bando di gara d'appalto per quantomeno ottenere un beneficio quale la trasformazione del contratto esistente tra l'amministrazione di erice e SOES perché è importante la trasformazione del contratto? Perché il contratto attualmente è esistente è tutto spostato verso SOES e non altri e per cui se anche come dire avessimo a disposizione una superficie pari al doppio dell'estensione di erice o addirittura tutta Trapani comunque sia SOES non ha nessun obbligo solo l'obbligo di garantire un certo monte ore e nient'altro e chiaramente questo servizio non torna a beneficio della collettività non torna a beneficio dell'erario e delle casse del comune di erice senz'altro non torna a beneficio neanche dei livelli occupazionali.